Musica Benvenuti in una nuova edizione di RMK Notizie, Carnevale di Sciacca 2019, buona la prima, ma positivo è il bilancio della prima giornata di sfilata dei carri allegorici, anticipata per la prima volta al venerdì per ciò che concerne lo spettacolo. Qualche problema invece dal punto di vista organizzativo per i tradizionali ritardi del corteo mascherato, che caratterizzano spesso il primo giorno di sfilata, assai apprezzata la qualità delle opere in cartapesta e in concorso, tutto pronto per la sfilata di oggi che prenderà il via da Viale della Vittoria. Ecco il primo dei nostri servizi. E' andata in archivio la prima giornata del Carnevale di Sciacca, con la sfilata dei carri dalla via Cappuccini. Sfilata partita in ritardo fondamentalmente perché diversi carristi erano ancora intenti ad ultimare le fasi di assemblaggio. E' così, mentre alcuni carri già avanzavano lungo il percorso, sugli altri ancora si lavorava e si montavano pezzi. Può aver influito la decisione di anticipare già al venerdì la sfilata dei carri, ma è pur vero che anche in passato è successo che alcuni carri verissero ultimati, mentre il Carnevale era già in corso di svolgimento per le vie della città. Il lavoro svolto quest'anno dalle maestranze ripaga del resto di questi intoppi nell'avvio della manifestazione. Non si discute la qualità delle opere proposte, con ulteriori innovazioni sul fronte dei movimenti, dell'illuminazione e dell'impianto scenografico. Carri che fanno grande il Carnevale di Sciacca, assieme ai gruppi mascherati che li precedono. Sul palco di Piazza Angelo Scandaliato ha preso via con l'esibizione della Scuola di Danza Pluma, ma è stato come da tradizione il Peppe Nappa ad aprire lo spettacolo dei gruppi e dei carri. E' la manifestazione entrata subito nel vivo della competizione con la recita dei copioni dei due minicarri in concorso, o Bella Ciao del Comitato Nuova Idea e Make Sushi dell'Associazione La Nuova Avventura. Poi le esibizioni dei gruppi mascherati che precedono i cinque carri allegorici di categoria. Buona la partecipazione di pubblico, anche se chiaramente è per stasera e domani che si attendono le maggiori presenze. Oggi pomeriggio è la sfilata a prendere il via da Viale della Vittoria, dove i carri si sono posizionati ieri a tardanotte. Sul palco di Piazza Angelo Scandaliato lo spettacolo prenderà il via con l'esibizione dei tamburinari di Aspra. Stasera reciteranno il copione tre carri di categoria A. Fiori d'arancio dell'Associazione Saranno Famosi, Guardami Negli Occhi dell'Associazione La Nuova Isola e Andiamo a Comandare dell'Associazione Archimede. Domani mattina il tradizionale appuntamento con il Carnevale dei Bambini, alle 10 sul palco di Piazza Scandaliato, mentre alle 11.30 i carri si sposteranno da Viale della Vittoria per posizionarsi in lungo corso Vittoria Emanuele. La sfilata pomeridiana dovrebbe partire alle 15 e domani sera è prevista solamente l'arrecito del copione del carro del Peppe Nappa. Carnevale di Sciacca in diretta a partire da oggi pomeriggio e per tutti i giorni della festa sulla nostra mittente e sui nostri canali social. Verranno proposte le più belle immagini del corteo mascherato attraverso un lavoro che anche quest'anno vede insieme le due emittenti televisive, Tele Monte Croni e Tele Radio Sciacca, una diretta pomeridiana che prenderà il via intorno alle 17.30 dal cosso Vittorio Emanuele nei pressi del palco, per poi proseguire in serata con la consueta diretta dello spettacolo dei gruppi mascherati sul palco di Piazzangelo Scandaliato. E' fin qui lo spettacolo del Carnevale, ma ci sono risvolti della festa che vanno evidenziati e sono quelli legati all'ordine pubblico e ai tanti casi di abusi di alcolici che si sono già registrati. E' il pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca, già la scorsa notte, ha dovuto fronteggiare questa problematica. Sentiamo. Tanti, troppi ubriachi, anche ragazzini di 12-13 anni, nonostante le campagne di sensibilizzazione, nonostante le ordinanze che vietano la vendita di alcolici ai minorenni, nonostante tutto quello che è stato messo in campo in questi anni per fronteggiare la problematica, l'abuso di alcolici rimane un problema che è esploso già in queste prime giornate di Carnevale. Non solo giovani, polizie e carabinieri hanno dovuto arrestare ieri sera un saccense con precedenti che in evidente stato di ubriachezza si è anche scagliato contro le forze dell'ordine che erano state sollecitate ad intervenire. Ha inveito e ha reagito in maniera violenta e alla fine è stato portato via in manette per lesioni, resistenza e minacce. Non sono mancate le risse, ma il tutto si riconduce quasi sempre allo stato di ubriachezza dei soggetti interessati, nonostante l'impegno delle forze dell'ordine e la capillare presenza nel centro storico di polizie e carabinieri, dei volontari e della Croce Rossa con le postazioni mobili in centro storico. Eppure, nonostante ciò, già la scorsa notte il pronto soccorso dell'ospedale di Sciacca ha dovuto fronteggiare i risvolti del Carnevale saccense legati all'abuso di alcolici. In tanti hanno dovuto far ricorso alle cure dei medici dell'area di emergenza del Giovanni Paolo II che devono gestire i giorni del Carnevale con il personale medico-infermieristico solitamente previsto, tre medici la mattina e due per il turno pomeridiano e notturno. Se già normalmente si registrano problemi, figurarsi cosa significa per due medici gestire il turno serale e notturno durante i giorni della manifestazione saccense. Disaggi per i residenti del centro storico vengono segnalati in particolare diversi episodi in cui ad alcuni cittadini non sarebbe stato consentito da parte della Polizia Municipale l'accesso con la propria vettura nonostante il regolare pass certificato di residenza e permesso di accedere al proprio box. È successo anche ad alcuni saccensi che dovevano transitare lungo la via Licata, arteria tra l'altro non interessata dal corteo mascherato, cittadini che sono andati su tutte le furie ritenendo di avere tutte le carte in regola per poter accedere in auto nei pressi delle loro abitazioni. Anche quest'anno la promozione del Carnevale di Sciacca passerà attraverso i social grazie alle community Instagram, Igers Agrigento e Igers Sicilia. Instagramers oggi e domani immortaleranno e condivideranno su Instagram foto, video, stories e dirette della festa in maschera su invito del club fotografico dell'altra Sciacca. Domani in città anche Salvo la Rosa e le telecamere del TGS. Sentiamo. La community di Igers Agrigento torna ad immortalare e condividere su Instagram il Carnevale di Sciacca. Dopo la promozione social dello scorso anno si replica. Alle 16, local manager di Igers Agrigento, Antonella Giovinco, Jessica Buscemi e Stefano Siracusa incontreranno gli Instagramers radunati nella piazza principale della città Piazzangelo Scandaliato. Da lì prenderà il via la passeggiata social fotografica tra carri, maschere, street food e mille colori. L'istan Walk sarà guidata tra gli angoli più belli del centro storico, fino a raggiungere i carri allegorici che sfineranno. I partecipanti potranno così conoscere e condividere le allegorie delle opere in cartapesta e le caratteristiche della festa saccense. I migliori scatti della giornata saranno infatti pubblicati sui profili social Igers Agrigento e Igers Sicilia. L'iniziativa è organizzata in collaborazione con la Futuris, società organizzatrice della festa, e il club fotografico amatoriale L'Altra Sciacca Foto. Sarà presente anche una delegazione della community internazionale Couchsurfing. Anche domenica la community regionale Igers Sicilia contribuirà a pubblicizzare su Instagram e social il carnevale, con post, stories e dirette per documentare tutte le fasi della festa, così come sarà fatto con gli altri carnevali siciliani, secondo una programmazione ben definita. E sempre domenica, promozione anche in tv. Le telecamere regionali del TGS saranno a Sciacca per realizzare alcuni collegamenti in diretta all'interno delle edizioni dei TG sul canale 15 con Salvo La Rosa, che racconterà il carnevale di Sciacca dal corso mascherato e la sera dal palco di Piazza Scandaliato. Ben ritrovati, ennesimo incendio nell'area delle case popolari di Largo dei Martiri di Viafania a Ribera. Pare che ad andare a fuoco questa volta sia stato un cumulo di rifiuti. L'episodio si è verificato giovedì sera, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. Ormai è una vera e propria emergenza sicurezza nella zona dove insistono questi alloggi, che per ragioni burocratiche, ritardi e slittamenti ancora non vengono demoliti. Sentiamo Noemi Tugnolo. Risale a giovedì sera l'ennesimo incendio sviluppatosi nell'area degli alloggi popolari di Largo dei Martiri di Viafania a Ribera. Ad andare a fuoco un cumulo di rifiuti. La zona è ormai una vera e propria discarica a cielo aperto, che è versa in uno stato di incuria, degrado e abbandono. Non si conosce l'origine dell'incendio e non si esclude la natura dolosa. Sul posto, anche in questa occasione, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca. La zona delle case popolari di Ribera continua dunque ad essere teatro di episodi spiacevoli e al tempo stesso pericolosi per la sicurezza pubblica. Non è la prima volta che accade. Nei mesi scorsi a prendere fuoco è stato un appartamento e le fiamme stavano per avvolgere l'intera palazzina. Queste case ormai rappresentano una fonte di pericolo non indifferente. Sono spesso abitate da extracomunitari che vivono lì in condizioni di assoluto degrado. Il sindaco Carmelo Pace si è più volte rivolto al prefetto di Agrigento per sollevare l'aspetto legato proprio alla sicurezza. E giusto la scorsa settimana c'è stata in prefettura una riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza cui ha preso parte il primo cittadino. È stata anche chiesta la presenza dello IACP, ente proprietario degli immobili, cui è stato dato mandato di trovare una soluzione che consenta di garantire un servizio di vigilanza nella zona soprattutto nelle ore notturne. Diverse e continue sono le irruzioni delle forze dell'Ordine all'interno degli alloggi per allontanare gli occupanti abusivi, ma dopo qualche giorno gruppi di extracomunitari riescono nuovamente ad entrare in questi immobili. Tutto tace nel frattempo riguardo all'inizio dei lavori di demolizione e ricostruzione delle case. In pianto biometano in Contrada Piana Scunchipani interviene anche la Commissione Consiliare Sanità che annuncia di voler attivare un comitato permanente del quale facciano parte i parlamentari agrigentini. Sentiamo Maria Genuardi. L'amministrazione si è più attenta alle problematiche del territorio e a quello che succede all'interno del Palazzo Municipale. Con questa premessa la Commissione Sanità del Consiglio Comunale, della quale fanno parte i consiglieri Carmela Sant'Angelo, Gaetano Cognate e Cinzia Deliberto, interviene oggi sulla vicenda relativa al progetto per la realizzazione di un impianto biometano in Contrada Piana Scunchipani. Commissione che si era occupata della vicenda a partire dalla seduta dell'8 febbraio scorso e che successivamente aveva convocato per chiarimenti sia l'assessore Tulone sia l'assessore Leonte, apprendendo da entrambi che agli atti degli uffici competenti del Comune di Sciacca non risultava alcuna istanza relativa al progetto. Commissione che ancora evidenzia di avere richiesto all'amministrazione di convocare il gruppo SNAM e la società Moncada anche in considerazione del fatto che sul sito della società il progetto risultava già realizzato. Solo dalla stampa e dopo che la questione è stata anche ribattuta in Consiglio Comunale, dichiarano i consiglieri Sant'Angelo, Cognate e Deliberto, si è appreso che in realtà la documentazione era già da tempo in possesso degli uffici comunali. Aspetto questo che per la Commissione Consiliare è piuttosto grave nella misura in cui evidenzia uno scollamento tra amministrazione ed uffici. Nonostante il nostro interesse, scrivono anche i tre consiglieri, c'è stato detto che non era necessario interpellare i funzionari competenti perché al Comune di Sciacca non risultava depositata alcuna documentazione sul progetto dell'impianto biometano, circostanza poi risultata non veritiera. Nell'esprimere netta contrarietà al progetto, la Commissione Sanità del Consiglio Comunale annuncia la volontà di istituire un comitato permanente con la presenza della deputazione agrigentina. Problemi di inquinamento idrico a Lucca Sicula. Il Sindaco ha emanato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua per scopi potabili. Lo sforamento dei parametri dell'acqua è stato riscontrato in alcuni punti, ma in via precauzionale l'ordinanza è stata estesa a tutto il territorio comunale. Operai e tecnici della società che gestisce il servizio stanno cercando di individuare le cause dello sforamento dei parametri dell'acqua così da poter intervenire per risolvere il problema. Domani in tutta Italia il popolo del Partito Democratico sceglie il suo nuovo segretario attraverso le primarie, tra le mozioni concorrenti quella di Maurizio Martina, quella di Luca Zingaretti e quella di Roberto Giochetti. Si vota dalle 8 alle 20. A Sciacca le operazioni di voto saranno a San Michele presso la segreteria politica del deputato regionale Michele Catanzaro. Massimo D'Antoni lo ha intervistato. Cominciamo col parlare di queste primarie rispetto al fatto che le elezioni si svolgeranno qui, che è la sua sede politica. Qualcuno già potrebbe dire che si tratta di un fatto bizzarro. Lei come replica? Io replico. Intanto spero che non ci sia nessuno che possa polemizzare sulla scelta della sede, perché questa oltre ad essere una sede aperta a tutti, al di là se magari qualcuno volesse fare passare il messaggio di essere la mia segreteria politica, è anche la segreteria del Partito Democratico, perché ancora per qualche giorno sono il segretario del Partito Democratico e quindi non abbiamo altre sedi. Ma per sgomberare il campo da qualsiasi polemica voglio dire che in provincia di Agrigento ci sono anche indicate altre sedi in associazioni. E poi una cosa è chiara, in un momento così particolare e di grande difficoltà il Partito Democratico di Sciacca ha preferito risparmiare sui costi del canone, dell'affitto di una sede. Si comincerà a votare alle 8, dalle 8 alle 20 ci saranno le porte aperte, ci sarà il seggio istituito, quindi mi farebbe immenso piacere che la gente partecipasse alle primarie. Chi non è tesserato al Partito Democratico dovrà pagare il contributo di 2 euro. Sicuramente voglio lanciare anche una proposta, ne parlerò nelle prossime ore, una parte dei proventi delle primarie decideremmo di darli in donazione. Lei sostiene la mozione Martina, ma chi volesse votare per le altre mozioni può fare. Assolutamente, noi siamo il Partito Democratico. Lei perché sostiene la mozione Martina? Io sostengo il Partito Democratico, sono convinto che a questo partito dobbiamo mettere un punto alla parola di visioni e iniziare a ragionare come partito unitario, al di là di quello che possono essere le diverse proposte delle mozioni. Ieri c'è stato un confronto e non mi sembra che c'erano così tante divergenze tra i tre candidati. Magari su alcuni argomenti è chiaro che ci sono delle posizioni diverse, però quello che immagino io è un modello di un partito, ad esempio come quello del Partito Democratico americano, dove all'interno si dibatte, però poi alla fine c'è grande pluralità, ma con un'unica proposta politica e linea politica. È un PD che adesso, dopo gli ultimi risultati elettorali, anche quelli della Sardegna, può pensare di rilanciarsi anche attraverso le primarie, se vogliamo? Io sono convinto che il PD deve andare oltre le primarie. Il PD si può rilanciare con una buona proposta politica e con il dialogo che ha perso con i territori. È chiaro che per me il PD è un partito plurale, aperto, che però deve tenere fuori l'aspetto litigioso che a me non mi appartiene e se qualcuno volesse tirarmi dentro l'aspetto litigioso, io non ci sto. Incrementare la raccolta differenziata, specie degli imballaggi riciclabili, per permettere ai comuni siciliani di spartirsi incentivi per decine di milioni di euro. Questo è l'obiettivo dell'assessore regionale a ramo Alberto Piero Bon. Bisogna assolutamente diminuire i costi di smaltimento, ha detto. Basterebbe aumentare la raccolta di plastica e carta del 3% a livello regionale per passare da 21 a 48 milioni di euro di ricavi. Secondo le stime, seppur con un miglioramento rispetto allo scorso anno, è la provincia di Agrigento quella più indietro a livello regionale nella raccolta differenziata. Sentiamo Calogero Parlapiano. Aumentare le percentuali di raccolta differenziata, in particolar modo di plastica, carta, vetro, cartone, legno e alluminio, per permettere ai comuni siciliani di spartirsi somme più cospicue di incentivi. E' questo l'obiettivo a medio e lungo termine della regione, che ha sancito nei giorni scorsi un importante accordo con il consorzio Conai. Secondo gli ultimi dati, in Sicilia si è giunti al 35% di differenziata, di cui l'11% riguarda gli imballaggi recuperabili. Fennalino di Coda, la provincia di Agrigento, che, nonostante i miglioramenti, fa registrare gli incrementi minori insieme alla provincia di Enna. Il trend siciliano è in costante aumento per tutte le voci, ma si tratta pur sempre di percentuali risibili rispetto alle altre regioni. Basterebbe aumentare del 3% la raccolta degli imballaggi per passare da 21 a 48 milioni di euro di ricavi, oltre ai costi risparmiati in termini di conferimento in discarica. Sono risultati alla portata di tutti i comuni, afferma l'assessore regionale Alberto Pierobon, che chiede così di diminuire i costi di smaltimento. Se ne è discusso in un incontro tenutosi a Palermo tra esponenti della regione, sindaci e consorsi. Solo spingendo l'acceleratore sulla quota differenziata, il risultato per quanto riguarda questo 25% è di più di 100 milioni in poco tempo. Quindi, minori costi di smaltimento in discarica, tutela dell'ambiente assicurata, minore movimentazione nel territorio con logistica onerosa e ricavi dal sistema CONAI. Nel 2018 sono state recuperate 210 tonnellate di imballaggi riciclabili, il 31% in più rispetto al 2017. Ma si può e si deve fare meglio, poiché dal recupero di plastica, carta, vetro, cartone, legno e alluminio si può ottenere un corrispettivo, una vera e propria boccata d'ossigeno per tanti comuni dell'isola in crisi finanziaria. Alunni dell'Istituto Mariano Rossi all'opera in un progetto PON dal titolo Rossi TV. Un momento che li vede protagonisti di un lavoro di tipo giornalistico televisivo. Vediamo. Si intitola Rossi TV, il progetto PON promosso dall'Istituto Comprensivo Mariano Rossi, scuola diretta da Luigi Abbene, dedicato a studenti delle seconde e terze medie, che sta divertendo gli alunni che si stanno riscoprendo giovani giornalisti. Una serie di incontri con l'esperto esterno Massimo D'Antoni, al termine dei quali verrà fuori un audiovisivo su alcuni temi di interesse pubblico affrontati proprio dagli stessi alunni. E mi auguro che questa esperienza possa essere un'esperienza da ripetere anche negli anni successivi, perché i ragazzi poi ne troverebbero un giovamento in questa forma di riflessione. Nei giorni di carnevale i ragazzi di Rossi TV hanno intervistato il maestro ceramista Alberto Soldano, che col compianto fratello Gaetano ha scritto pagine di storia del carnevale. Quanti carri avete creato lei e il suo fratello? Nuove carri più la collaborazione precedente che abbiamo fatto con le altre associazioni. Ci spiega come nasce l'idea di un carro allegorico? Con il copionista si sviluppa l'idea, si mette in carta, in carta millimetrale, si comincia a disegnare. Come viene costruito un carro? In genere quali sono gli operai che creano appunto questo carro? Il fabbro, il modellatore, il decoratore, l'artista. Vi siete resi più soddisfazione o più repliature partecipando al carnevale? Diciamo più soddisfazione. Come è cambiato secondo lei il carnevale da quando voi eravate i protagonisti ad oggi? C'è molto più comodità, c'è molto più elettronica, meccanismi, allora noi i movimenti li lasciavamo con, diciamo, manuale. Ci ricorda quali personaggi ci eravate per le vostre caricature? Per lo più si andava sempre sulla santa politica. Vorremmo che ci parlasse del tempo in cui l'inna veniva eseguito o cantato sul carro. Ah, questa è una cosa bellissima. Allora direttamente c'erano i musicanti sopra il carro, e quindi prove, straprove, alla fine ce ne andavamo a casa, proprio non ci piaceva più. Ci sono giovani caristi che secondo lei al giorno d'oggi hanno continuato il lavoro dopo che si è ritirato? Ce n'è tante bravissime, veramente artista. Quindi il carnevale è in mani sicure? Sicurissimo. Ci racconti delle fasi di costruzione del carro, del sistema che si respira all'interno dei magazzini, è vero che è faticoso ma anche divertente? Sì, 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 certo che è faticoso. E c'è l'uno e l'altro. Si parla spesso del fatto che col tempo il carnevale si è diventato una specie di business, e un tempo era più spontaneo, le cose ne pensa? Prima era a livello naturale, divertimento puro, eccetera. Quando ci sono i soldi e vengono le lite, le cose, perché quello vuole i soldi, quello vuole i soldi, l'affitto di casa vuole i soldi, non regala nessuno niente. Quali sono, secondo lei, le cose che dovrebbero essere modificate del carnevale moderno? Tanto i capannoni. Ci sono mai state personalità che si sono lamentate di essere riprodotti nei vostri cari? No, anzi, ci hanno fatto piacere. Allora è venuto poi il pobato e ci ha fatto i complimenti quando abbiamo fatto la forza dell'ebbene. Che ne pensi dell'idea che per assistere all'esperienza del carnevale si dovrebbe pagare un biglietto? In tutte le manifestazioni del mondo si pagano, quindi se andiamo a vedere una partita paghiamo, se andiamo a vedere un oggetto si pagano. Perché non pagare un biglietto risorio? C'è anche chi sostiene che in periodi di crisi bisogna rinunciare alla festa. Lei che ne pensa? Vabbè, la crisi c'è, solo che se lasciamo queste manifestazioni andiamo peggio di peggio. Purtroppo del carnevale si parla anche perché spesso i giovani lo vivono male, ubriacandosi e facendo a botte. Lei cosa pensa di questo problema? Fanno a botte. L'eccezione semplice, non è che si ubriacano tutte. Ci racconta qualche episodio della sua vita da carriaco? Abbiamo fatto questo farro, mi ricordo che è venuto proprio una nottata di vento e ci ha rotto la testa. E' venuto un coso comunale, dai dai, andiamo avanti, andiamo avanti, se non ce l'ha testa come andiamo avanti. A quale posto metterebbe una classifica idea nel carnevale di Sciacca fra quelli di tutta l'Italia? Primo, secondo, terzi posti in tutta l'Italia. Qual è il secondo re del carro migliore che le fratelle avete mai fatto? È la scorsa delle belle. In chi hanno iniziato a fare carri? I primi carri li abbiamo fatti nel 1960. Spente per tre minuti le luci della pubblica illuminazione di piazza della Repubblica a Montevago. Così l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita, la Rocca Ruvolo, ha aderito ieri sera all'iniziativa Mi Illumino di Meno. La giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili ideata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio 2. Un'iniziativa simbolica e concreta che fa del bene al pianeta e ai suoi abitanti. Quest'anno Mi Illumino di Meno è stata dedicata in parte all'economia circolare. E adesso la rubrica Il Libro del Giorno. Nel cuore dell'uomo la speranza è come una fiammella. E' uno dei più grandi peccati contro lo spirito avviene proprio quando viene cancellato spenta. Ci vuole molto coraggio per cercare sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, per osare la ricerca del cane che salva l'uomo e non di quello che lo azzanna. E' questo l'augurio di Antonia Arslan che la fiammella della speranza non si spenga mai. In tempi troppo spesso bui, la segreta bellezza dell'altro è la sola fonte di salvezza, l'unica luce che possa liberarci dalle tenebre dell'intolleranza. E così non esiste crescita interiore senza condivisione. Non c'è cammino senza incontro, non c'è amore per il paese senza memoria delle origini. Lo sa bene la testimone diretta dello scambio tra propoli. Lei che attendeva nella sua casa di Padova i parenti sparsi e divisi dalla diaspora, davanti ai quali spalancava gli occhi incuriosita dai racconti dei cibi armeni e dei colori vivaci delle miniature. E' proprio attraverso queste pagine che narrano di meravigliosi mondi lontani. Ancora una volta la scrittrice della masseria delle allodole ci conduce verso l'intimo equilibrio degli affetti e la scoperta dell'altro. La bellezza sia con te di Antonia Arslan e di Torrizzoli E con i consigli della libreria Mondatore di Sciacca si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale. Grazie ancora una volta per averci seguito. Grazie a tutti. Autore dei sovrapposti